Il mito e la leggenda Il mito e la leggenda sono testi fantastici nati dalla fantasia dei popoli antichi. Attraverso questi racconti è possibile capire alcuni aspetti della cultura del popolo che li ha creati. I miti cercano di spiegare l'origine del mondo, degli esseri viventi e di alcuni fenomeni naturali. Le leggende spiegano le caratteristiche di un animale o di un elemento naturale, o ancora la nascita di tradizioni popolari. Nei miti, un protagonista, spesso una creatura divina, combatte contro un antagonista e alla fine riporta una vittoria schiacciante. Le leggende si concludono sempre con trasformazione del protagonista o dell'elemento descritto. I personaggi dei miti sono eroi dotati di grande intelligenza e astuzia, divinità con sembianze umane, creature fantastiche con poteri magici che compiono imprese eroiche, grandiose e molto pericolose. Al contrario, nelle leggende agiscono persone comuni, animali o elementi naturali. Per esempio, potresti incontrare eroi che sopravvivono tra i ghiacci sotto la minaccia di pericolosi animali. Nei miti e nelle leggende, i luoghi sono generici, come la Terra o l'universo, oppure sono luoghi dove lo stesso racconto è nato. I miti e le leggende vengono sempre ambientate in un tempo indefinito e sono quasi sempre narrate in ordine cronologico. Leggiamo degli esempi Il mito Paride, figlio del re Troiano Priamo, andò a Sparta, città Achea, dove regnavano Menelao e la sua sposa Elena. Paride rimase immediatamente colpito dalla bellezza di Elena e se ne innamorò follemente. Aveva carnagione chiara, tratti delicati e perfetti. Biondi capelli le ornavano il viso. Incurante che Elena fosse già sposata, Paride chiese alla dea Afrodite di aiutarlo. Così Afrodite inviò il dio Eros a Sparta. Egli, con una delle sue frecce magiche, colpì Elena, facendola immediatamente innamorare di Paride. Paride portò con sé Elena a Troia e questo fatto generò il famoso conflitto che culminò con la distruzione di Troia. E ora, cerchiamo nel testo le tecniche, i fatti, i personaggi, il luogo e il tempo caratteristici del mito. La leggenda Tanti e tanti anni fa, gli animali che vivevano nella foresta decisero di eleggere il loro re. A governare sarebbe stato chiamato l'animale dall'aspetto e dal mantello più belli. Leoni, scimmie, orsi e lepri fecero a gara per rendere il loro aspetto più piacevole. Il povero Istrice, che a quei tempi era coperto solo di una modesta pelliccia, si presentò con il dorso tutto ricoperto da tralci di rose in fiore. I dieci gufi scelti per il giudizio non ebbero dubbi. L'Istrice sarebbe stato eletto il re della foresta e il giorno dopo sarebbe stato incoronato. Il mattino seguente, però, il povero Istrice si trovò sulla groppa solo le spine delle rose, perché fiori e foglie erano appassiti. Per la vergogna, da quel giorno, l'Istrice, tutto ricoperto di spine, esce dalla sua tana solo di notte. Ma di notte escono anche i gufi, che vanno a caccia di Istrici per vendicarsi dell'imbroglio subito. Cerchiamo infine nel testo le tecniche, i fatti, i personaggi, il luogo e il tempo caratteristici della leggenda.